Per tutti, ma non perché io sono buono e gli altri no, perché dipende che cerchi un gioco Ripeto, non è un gioco alla portata di tutti, è un gioco, come Binding of Isaac, l'ho sempre detto È un ottimo gioco, è il mio gioco preferito, ma non è un gioco per tutti Cioè, abbiamo praticamente trishottato Ottimo Allora, dobbiamo prendere il... Ma l'Esus in realtà ce l'abbiamo, non possiamo... No, perché non ci dà la chiave del pellegrino, quindi dobbiamo per forza fare tutto il giro, va bene